esterno sinistro? questo spacca possiamo attivare bonus? bella tutti bomber rieccoci qua con gli spacchettamenti esattamente con l'opening crossbar pack 2 pack non lo so vediamo quanti pack aprire andiamo a vedere subito le regole le ricordiamo velocemente allora noi qua spacchetteremo dobbiamo trovare un giocatore con e andiamo subito a chiamare perché ci sono i bomber al campo pronto bomber? si! si bomber ci siamo siamo pronti siamo qua al campo palle già pronte e aspettiamo solamente il primo giocatore si 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 stiamo per iniziare a spacchettare quindi direi di scaldare le gambe per partire siete carichi? e andiamo a salvare tanti giocatori molto bene molto bene mi sa che con un zapigno li perdiamo tutti dite il primo dai e lo so che toccherà zapigno però non importa andiamo a spacchettare andiamo a spacchettare quindi andiamo a cercare il primo bomber all'incolto superiore a 83 quindi devi partire romana che mai ti andrà? no gli piace la segretaria telefonica vai spacchettate rispondi sull'altra linea che ti insulto un po' si pronto? ascolta vedi che è il buon digigno non lo so ma è il buon zapigno hai capito? e non dire e se non ce l'hai nell'e eh? io ce l'ha partiamo subito con loro allora quest'oggi noi dovremo trovare ronaldo e questo è subito ronaldo i bomber al campo oh! Michi Italian adesso hai fatto subito carichi così a un 86 di velocità a un 87 molto buono e subito ripartire a chiamare i bomber al campo per salvare Michi Italian bomber al campo mi sentite? ok bomber si abbiamo trovato un 83 è una schifezza però proviamo a tenere buono questo eh vabbè ma anche se non lo teniamo andiamo a tenere Zappo ah volete tenere? ok molto male molto male molto male molto bene molto bene questo lo teniamo è tutto vostro ok vabbè 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 io lo scarto io lo scarto no che si appendono non appendono più la traversa ci siamo secondo pacchetto perché tocca a te? perché facciamo 5 pacchetti a testa vabbè ok dico non guardare e' l'ora del pacchetto oh forti questo ragazzi è vecchio ricordo oh buono furti da 15.000 attenzione e' l'ora del pacchetto se del pacchetto fai meno Oh, De Vrij, ma non c'era, 83 non ci arriva, quindi andate, 3 di questi, 2 di quelli, 3 di questi, 2 di quelli Ok, ci sta molto bene, molto bene Oh, oh, oh Caldo, è un'alto saldito Un'alto 85 vuol dire che non ci serve assolutamente a niente Perché è molto buono, è molto buono Vai, prima i bomber, è un altro numero, vai Sì, va bene Sì, bomber Dig Sì 85, dobbiamo tenerlo Questo spacca Chi batte? Eh, ma tocca a Zapigno Chi è che batte? Batte Zapigno Ah, ok, perfetto Eh, sì, abbiamo perso il primo pallone, sì Ah Fa capire Eh, è un po' critica Anche a secondo Ma ha staccato il telefono in faccia Chi è cool Eh, vabbè, pure bene Io l'ho sentito Bomber Sì, bomber Eh, mi dicono dalla regia che c'era ma non c'era Però Non c'è stato il toc, quindi lo dobbiamo scartare Eh, dai, saluto a Zap, eh Molto bene Vai che si trova Messi Messi Vai con Messi Manca un aeroro Vai con Messi Ci sono con Messi, con Messi Sì Per casa 2005 Adesso consumiamo tutto Uh 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 Come Oh 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 82 Vai destre Vai destre L'acqua 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 Vai L'acqua 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 C'è una chiave Ma neanche oro Dipetti Svoltiamo di brutto Adesso qua Guarda qua Uh No Perrin Mi dispiace Io In 5 pacchetti l'avevo chiamati 2 volte Che è anche 1 Ma non è copa mia Cambia il telefono Perché mi sarebbero diffuso Guarda dai Ce l'è uscito prima Però Sharawi c'è uscito Attenzione Escia Escia Mancava Guarda la videocamera Guarda lì Sì Uguale Guarda screenshot Ragazzi Adesso tutti voi screenshot con Sharawi Vai Adesso la facciamo la stessa macchia Peccato che lui gioca nel Nella Roma Vai guardo solo io Eh sta io Ecco mia Ma è Stai tranquillo Vai Tu non guarda No no dai Dai Gilles Dai Gilles Facciamo Facciamo Stavaglia Sniper Ehi 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 E li tagliamo tutti e due qua Ragazzi qua direi di passare subito a chiamare il bombero al campo Per vedere un po' se dobbiamo tenere due giocatori O li scassiamo sui due Bobercarpo mi sentite? Oddio Yes Lui ha trovato due giocatori E direi di passare subito alla crossbar Perché è l'ora nella crossbar Ci tira? Vai Ma veramente Questo dai va bene È un regalo dai Vai Digg Bisogna teneremo questo Ci sono ci sono È molto buono E mi hanno spostato la porta Eh mangi Ma tra Dovevamo pure capovolgerla Si prende così Vai Digg Ci sono ci sono Al volo Cambio Vai tocca a te E' oppe Oppe Chissà che culo Chissà che roba E' tu che non speri sul zapinto Vai disegniamo Ok grazie Ciao a buon vera Alla prossima Grazie Ciao Punte due Italiano? Daviname Daviname Davin Peratore di merda Spagnolo Cici 79 di ferro Amigo Abbiamo ancora un po' di FFW Da opter Zapp Guarda la tattica di Zapp Tattica di mano No 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 Oddio Oddio Bella roba Bella roba No bella robi Oh Sì pronto Bomber? Sì Bomber Allora abbiamo trovato un bel giocatore Questo lo vorremmo ottenere Schilla molto bene Dobbiamo tenerlo assolutamente Ok Ok Chi batte? Tira il zappigno Ah Mmm Mmm Qua si chiude Altra fuoco Va bene Vedete voi Perchè te lo cazzo che ho staccato Se no dicevo che la prima palla è andata Oh Oh Bomber Si Bomber Eh Eh l'abbiamo perso Scartiamo pure questo Questo è andata messa quando non deve Ma dai Schinderlist Oh Schinderling Stanno sinistro Sterling Sterling Peccato che ho 32 Cavolo Eh oh Perchè quindi Sterling Non è forte Sterling Sterling no Possiamo attivare bonus Per Sterling Si Scartato ragazzi Andato Sterling è andato Dai Schillatore nato era Sterling Eh abbiamo detto 83 Ragazzi noi ci atteniamo alle regole Ok Pensa se esce Ronaldo Ed è 182 E se i Bomber non prendono la traversa Yeah Stanno sinistro Oh Oh Eh oh Eh oh Eh oh Eh oh Beri 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 Cazzo Oh un attimo Un attimo Un secondo Fammi sentire Pronto Bomber Bomber Si Bomber Si Bomber E ti rendici E beri Direi che ci vediamo Lo guardo Quindi E non è la crossbar E non è la crossbar Vai con crossbar E non è la crossbar E non è la crossbar No io stanno andare a pranzo Mi dispiace Non è la crossbar Bomber Sono le 11 nella crossbar E hoooo No ho sentito E ho prendo E ho E ho Ah ma non è finito, aspetta che ho tirato a piedi Posso andare a pranzo? Questo dice che c'ha un po' Tira a... tira a... tira a... tira a... tira a... tira a piedi E hop! Ora posso andare a pranzo? Dai Zapp sei una capra Sei una capra Zapp Cioè sei proprio una capra veramente Beh, vedi io a tirare a posto tuo E allora la crosta E' un po' di secondo E' hop! E' hop! E lo teniamo Andiamo a pranzo adesso e basta Basta Ok ragazzi Anche quest'oggi abbiamo concluso con il Pack Challenge opening Un attimino, un attimino Chiamiamolo bomber? Chiamiamo un attimino i bomber Sì bomber? Sì bomber, ok, noi abbiamo concluso qua al campo Sì, vi ringraziamo Abbiamo terminato per oggi, siete stati molto utili E Zappinio ci ha fatto sempre scartere tutto Ma non rispondo Grande Zapp, così ti voglio Ok Ok, abbiamo salvato parecchi i giocatori oggi Non vi potete lamentare Grazie ragazzi Alla prossima Vi ringraziamo per i veri, grazie Giusto, giusto Tra l'altro ricordiamo 10.000 mi piace E vi richiameremo di nuovo Giusto Grazie bomber Grazie Ok Grazie Zapp, quando era a mangiare Zapp? Grazie Alla prossima challenge Crossbar Opa Company Grazie Tempo a mangiare, pensi Grazie, grazie Ok, ok Quindi grandissimi, tanti pollicioni in su E se vuoi essere un bomber Dovete iscrivervi sul canale dei due bomber E passare sui loro social Qui si troveranno come sempre sotto in descrizione Perché troveremo clip in edito Troveremo anche Cristiano Ronaldo in edito Cioè proprio va a sbucca così Bella, dig Beh, è stata un bravissima Ciao io E al prossimo video E hoppe Ehi Il tutorial di oggi ragazzi è un trick da veri bomber Infatti il suo nome è il bomber sombrero Vero Che hai inventato? No Un vero bomber Andiamo a vedere subito a skill Vai Tocca a te Ciao 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 Ciao